Il risultato di Valencia Dopo il buon risultato in Valencia, come è l'atmosfera dentro della squadra prima della SILVERSTONE RACE? Come sempre, dopo un grand prix difficile, come abbiamo avuto in Valencia l'atmosfera che abbiamo preso in Maranello è buona c'è la possibilità per tutto il team per andare a questa fantastica traccia e iniziare un nuovo rischio nel weekend Noi conosciamo che, infatti, nelle ultime due tracce non abbiamo avuto i risultati che vogliamo infatti, la performance è lì, ma il risultato non è lì Anche se sappiamo che, tradizionalmente, che non è un traccio in cui performiamo molto bene siamo davvero sperimentati a andare lì e vedere qual è il risultato di questo Il sviluppo tecnico è uno dei clai della season Ci saranno nuove parti in SILVERSTONE? Sì, come abbiamo detto, crediamo che il sviluppo e il risultato di sviluppo sarà il clai del successo di questo anno Abbiamo fatto un passaggio in Valencia Facciamo un altro, magari più piccolo, per sicuro, in SILVERSTONE Stiamo parlando di fronte e l'arrivo Poi, la Germania è un nuovo passaggio, la Hungria è un nuovo passaggio E poi lo vedremo Molti dei team di F1 sono basati in England, non troppo fuori da SILVERSTONE E tu credi che ci siamo avanti a giocare in un passaggio di dopo? Sì, io chiedo, in SILVERSTONE vediamo che quasi tutti i nostri competenzi hanno una fabbrica molto vicina al traccio e questo è parte del gioco, vediamo che tradizionalmente è una track, come abbiamo detto prima, che non è davvero buona per noi e questo è un'altra motivazione, anche perché vediamo che abbiamo molti supportori britannici che vengono sempre a Silverstone Julio sarà un mese molto difficile, con tre racconti in quattro settimane, quanto è importante vincere almeno uno di loro per rimanere nella raccoglietta per la città? Penso che non abbiamo bisogno di scendere dietro qualcosa, per sicuramente sarà molto importante, sarà cruciale per la città, per la motivazione e penso che questo è davvero il clave, e prima della città, per avere questo tipo di risultato che credo che la nostra squadra non è davvero buona per la città, 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 per la città? e credo che Ferrari sarà più grande per la città? non mi piace giocare un gioco, perché ci saranno fuori per noi, ma credo che possiamo fare bene c'è un nuovo layout del circuito, quindi è un grande challenge per i driver, per i ingegneri per essere pronti per la nuova Silverstone, quindi andiamo! Silverstone è uno dei paesi storici per la F1, qual'è il tuo sentimento per andare lì e per il circuito? La Silverstone è una raccoglia molto importante, siamo raccogliati ogni anno, questa è la prima volta che siamo raccogliati in una differenza di Silverstone, con alcuni nuovi corpi, credo che il secondo e l'ultimo settore sarà diverso da prima volta, abbiamo magari 4 o 5 nuovi corpi e anche è una raccoglia che è diversa da le precedenti raccogliati Valencia e Montréal, che sono molto lunga e forte ruota, Silverstone è più vicino a Turchia, più vicino a Barcelona, dove hai lunghi corpi, piccoli corpi, che hai bisogno di una buona giusta, che hai bisogno di una buona giusta, che hai bisogno di una buona giusta, quindi spero di portare una buona gara, una buona gara, una buona gara a Silverstone, quella che andata non è tanto, perché magari non è una raccoglia di casa, sono bella perfetta, quindi abbiamo bisogno di farlo, e cercheremo la violenza. Let's go! Oh, oh! Oh, oh!